Eccoci cari amici di pomeriggio. Siamo qui nel nostro studio, ospiti di questa puntata e di questa chiacchierata sono due graditissimi protagonisti di quello che è tutta la programmazione di un ente che impareremo quest'anno a conoscere in maniera dettagliata, direi quasi intima perché, e lo spiegheremo nel corso di questa chiacchierata e di questa intervista, con Tatiana Avratonic che è il vice direttore del Conservatorio Braga di Teramo e Federico Paci che ne è il direttore. Benvenuti. Grazie, ben trovati. Anzi, ben tornati perché diciamo che siamo molto contenti di avervi ogni anno ospite con le vostre tante attività all'interno di questo ente che effettivamente sono tanti anni che si rinnova ogni anno con proposte che vanno sempre così ad alzare la sticella di quella che è la proposta formativa. e non solo, anche di, vedremo, vedremo, ne parleremo, anche di progetti importanti che sono inclusivi e quindi c'è un'attenzione proprio al territorio, all'inclusione sociale, alla formazione, chiaramente alla didattica. Esatto. Abbiamo aggiunto un altro piccolo tassello che speriamo poter riproporre la prossima estate e che sarebbe quello che tu una volta hai chiamato Braga on the Beach ed è stato proprio così con il progetto in collaborazione con Beach Club di Manacara di Tortoreto. Quindi abbiamo proposto una serie di concerti tra classico e moderno e quindi tutte le proposte che riguardano anche le nostre proposte formative in questo club. e volendo un po' avvicinare i giovani che magari non hanno occasione a comunque incontrare questi generi musicali e diciamo poter incontrare, entrare in confidenza anche con qualcosa di diverso e cominciamo piano piano a fare questo tipo di promozione. E' stata una cosa bellissima davvero bellissima anche fuori dai contesti consueti della musica ma direttore Paci quest'anno tanti sono i progetti, tante sono le attività, il conservatorio insomma ridà ogni anno nuova vita alle varie attività che svolgete e tra l'altro in questi giorni proprio ci sono, c'è la sessione autunale parte della sessione autunale di esami, quindi insomma il Braga si ripopola anche se effettivamente non si spopola mai diciamolo perché ci sono sempre ragazzi e musicisti docenti e dipendenti. Però quest'anno diciamo siamo qui proprio a parlare di una novità che è proprio una porta aperta sul Braga proprio qui sul Rete 8 in una rubrica tutta dedicata a questa realtà. Sì sarà per noi una cosa importantissima perché la filosofia nostra è quella di avere come dico sempre un palazzo aperto quindi entrare dentro i meccanismi come magari potrebbe essere assistere anche a una prova di un orchestra per capire che poi come si costruisce un concerto e quindi la finalizzazione di tutto quanto il lavoro. Con questa combinazione e questo progetto che abbiamo appunto messo sul piano quest'anno speriamo appunto di entrare dentro le nostre classi, dentro le nostre strutture e in maniera ancora più profonda in modo proprio da dare quello che è quello che è lo spaccato di un'istituzione di questo tipo come conservatorio ma soprattutto della filosofia che portiamo ormai avanti da qualche anno. Ecco allora grazie il progetto questo progetto nasce proprio dalla volontà quindi di conoscere di entrare dentro questo questo mondo che è fatto di tanti protagonisti. Esatto e abbiamo voluto la filosofia di cui parla direttore è quella di scendere passatemi il termine un po dall'Olimpo scendere un po' su territorio intanto noi nel nostro piccolo e far capire il senso di quello che stiamo facendo. Non solo rivolti alla nicchia e per la nicchia ma cercare di allargare orizzonti e essere utili anche a quelli che non possono così attivamente partecipare alla nostra proposta formativa. Quindi ecco dove il sociale ecco dove tanti progetti che includono tante realtà quindi aprire a 360 gradi le porte del conservatorio e essere utili al mondo e alla società questa è la filosofia e in questo questo progetto senza altro sarà fondamentale e utile ed è un'occasione ritengo unica. e proprio per entrare nel vivo della nostra attività quotidiana e non solo quindi formazione e progetti rivolti alla società in generale. Ecco ne abbiamo parlato quindi i nostri telespettatori capiranno che adesso dalla prossima settimana proprio ogni giovedì alle 15.30 mettete proprio cambiate mettete il canale rete 8 quindi il canale 10 del digitale terrestre perché vi si spalancheranno le porte del conservatorio Braga e le telecamere andranno anche lì dove normalmente non si va. Ma ecco a proposito di questo io manderei la clip che è stata già girata di una puntata che non sarà la prima puntata di questa bella trasmissione ma è una clip che è stata girata in occasione dello spettacolo dell'opera Le Nozze di Figaro, l'opera studio che il Braga ha messo in scena ad Atri. Una piccola clip come anticipazione anche di quella che è proprio il senso di questa trasmissione che si chiama Voci dal Braga. Vediamolo. Se vuoi parlare, signor continuo, se vuoi parlare, signor continuo, il chitarrino le suonerà, il chitarrino le suonerà, si, le suonerà, si, le suonerà. Se vuoi parlare, signor continuo, 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 se Ecco cari amici telespettatori, avete visto cosa succede nella buca dell'orchestra, cosa succede dentro i camerini e un occhio insomma vi svegliamo dei retroscena che difficilmente il pubblico riesce a vedere, anzi non vede mai. E quindi l'anima vera di chi ogni giorno poi fa musica, insegna musica, perché lo vogliamo dire non ci concentreremo solo sugli spettacoli ma proprio sulla vita quotidiana del conservatorio, andremo a vedere chi sono gli studenti, chi sono i docenti, quali sono i loro progetti, da dove vengono, qual è la loro storia. Insomma è un importante momento proprio di svelamento di questa realtà. Quali sono appunto, già nella prima puntata andremo a conoscere quella che è un po' la storia, la storia del Braga, quindi insomma ci sono anche delle curiosità. Esatto, esatto. Non le vogliamo svelare. Non le vogliamo svelare in questo momento, ci sono tante curiosità. Tante curiosità, non le vogliamo svelare, ma insomma conosceremo anche il passato di questa istituzione, degli aneddoti, delle curiosità, quali sono, insomma, la vita che lo ha accompagnato fino ai giorni nostri, anche con dei protagonisti del passato, che sono anche protagonisti del presente, insomma, un sacco di interessanti notizie. E poi si partirà. Esatto, ed è importante se mi posso permettere sapere, comunque ci dobbiamo ricordare che il Braga statizzato esiste da otto anni, però Braga istituto parificato, pareggiato ai conservatori di Stato, esiste da 125 anni. Non sempre parificato ai conservatori, però come realtà Braga è molto anziano, è uno dei più anziani in Italia, è più anziana in istituzione, diciamo, abruzzese. Quindi dobbiamo parlare e dare, come dire, onore anche alla storia del Braga prima della statizzazione, che è molto importante. Quindi percorrere tutto il sentiero. E allora questo percorso, sono molto felice di annunciare proprio ai nostri spettatori, questo appuntamento imperdibile ogni giovedì alle 15.30 su Rete 8. Voci dal Braga vi farà conoscere da vicino, da molto vicino, questa importante, storica e nello stesso tempo attualissima e inserita nel territorio, istituzione, il conservatorio musicale Gaetano Braga di Teramo. Io vi ringrazio di essere stati con noi, e che dire, vi ritroveremo molto presto, perché già dalla prossima settimana, con la puntata zero e con la puntata appunto dedicata alla storia del Braga, con i nostri spettatori, vi ritroveremo con grande piacere insieme a tanti altri ospiti. Ma non saremo qui, saremo. Esatto, lo faremo in conservatorio, quindi sarà presenza dei colleghi che abbiamo avuto tanti anni in conservatorio pareggiato, nell'istituto pareggiato Braga e anche i colleghi nuovi. Quindi nel momento in cui si registrerà la puntata, conosceremo un po' tutti. Vorrei solo aggiungere che per questo importantissimo progetto è in evoluzione anche delle partnership con dei soggetti del territorio importantissimi. Quindi speriamo che possano esserci i positivi esiti di questa stanza. Assolutamente, assolutamente, sappiamo che ci sono delle istituzioni che hanno già attenzionato il progetto, una in particolare, non la svegliamo chiaramente, però insomma diciamo che aspettiamo, aspettiamo di avere ecco il proprio l'ok definitivo, dopodiché sarà nostro ospite sicuramente questa importante istituzione qui in studio per parlare. Esatto, perché sarebbe anche il riconoscimento dell'importanza territoriale e sociale di questo progetto, che andrà sicuramente oltre quello che è la stretta, stretto obiettivo, la finalità della nostra istituzione, e quindi formativa, cioè l'attività formativa, ma che va molto oltre e quindi la collaborazione con i soggetti importanti per territorio vuol dire anche riconoscere l'importanza nel farsi conoscere, nel far conoscere Braga articolando diciamo questa conoscenza il più possibile. Perfetto. Possiamo anticipare, ma poi sarà in soggetto. Prego direttore, anticipiamo, mi piacciono le anticipazioni. Abbastanza impegnativo. Abbiamo commissionato un'opera che è dedicata a un figlio abruzzese, John Fante, e poi un'opera di teatro musicale, dove ci sarà molto abruzzo dentro, è stata scritta da Antonio Cerigola e questo diciamo ci metterà a dura prova perché comunque tra le tante attività, questo è un progetto che per quanto riguarda un'istituzione come il Conservatorio, un momento di ricerca artistica e soprattutto di proposizione di qualcosa che va oltre il repertorio meraviglioso del teatro d'opera, ma che comincia a guardare un po' avanti e comincia anche a guardare il territorio degli artisti che magari hanno avuto origini o nel caso di John Fante molto più bene, neanche è venuto qui, ma la famiglia era di Torricela Penigna, c'è stato tutto un lavoro dietro, ma questo non… Lo diremo, lo diremo perché… Questo a proposito del territorio. Certo, rientra proprio in tutta questo lavoro. Esatto. È importantissimo che il Braga fa sul territorio, per il territorio, e… ma noi in quest'opera chiaramente ci saremo, ma non solo, non solo andremo a vederla e andremo a testimoniarla. A Chieti, al Marrucino. Ma a Chieti, al Marrucino, poi diremo tutto quanto, ma noi andremo a vedere anche come si costruisce un'opera, quindi andremo a seguire le prove, andremo a intervistare i protagonisti, gli interpreti, anche chi magari lavora dietro le quinte e non va in scena. Vedrete che… ne vedremo proprio delle belle. Grazie allora. Grazie a tutti i nostri ospiti, Federico Paci e Tatiana Vratonic. Io, cari amici di Di Pomeriggio, vi do appuntamento, non scordatelo, anzi segnatelo sul calendario, ogni giovedì alle 15.30 con Voci dal Braga, passo la linea allo studio, dopo la sigla, vediamola insieme, proprio di Voci dal Braga. Grazie a tutti i nostri ospiti, Federico Paci e Tatiana Vratonic.